Un cordiale saluto ben trovati da Nikos di Trevi Meteo anche nella giornata di venerdì anticiclone campo e sud Italia guardate questo profondo insidioso vortici di bassa pressione in movimento dalla Sicilia verso la Grecia passando ovviamente per il Mar Ionio ma andrà ancora un po' di instabilità sulle nostre regioni del sud qualche piovasco e tra l'altro dei fiocchi di neve sull'appennino meridionale anche sotto i 1000 metri di quota invece aumenta un po' la pressione al centro nord una giornata di bel tempo prevalente su un po' tutti i settori così anche come buona parte di sabato andiamo al dettaglio della nuvolosità e con le nubi che ruotano attorno a questa zona depressionaria soprattutto guardate basso adriatico poi molti settori del sud Sicilia si libera invece la Sardegna e poi anche Lazio, Toscana, regioni settentrionali con ampie aperture del cielo la prossima grafica ce lo conferma una giornata per lo più buona su gran parte del medio alto tirreno e regioni settentrionali qui anche un lieve aumento delle temperature massime invece l'instabilità che ancora terrà sotto scacco il sud dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo